Questa ricerca è stata svolta in Etiopia. Abbiamo lavorato su una cultura estremamente importante da un punto di vista culturale, ma anche per aspetti di sicurezza alimentare. Siamo stati in grado di campionare nella grande diversità di agroecologie di questo paese tante varietà tradizionali conservate e utilizzate da agricoltori di sussistenza. Le abbiamo caratterizzate da un punto di vista genetico. Poi siamo anche riusciti a caratterizzare il clima dei siti di campionamento, proprio dei luoghi in cui queste varietà tradizionali vengono ancora oggi utilizzate dagli agricoltori in Etiopia. Mediante un approccio di machine learning siamo riusciti a capire qual è la porzione della variabilità genetica che varia al variare del clima. In questo modo siamo stati in grado di capire quali regioni del genoma della specie orzo, grazie a questa diversità di varietà tradizionali, spiegano questa variazione che osserviamo nell'adattamento. Fatto questo abbiamo deciso di dare uno sguardo al futuro, capire come queste varietà potessero avere e potessero estrinsecare le loro caratteristiche di adattamento da qui a 40 o 50 anni e abbiamo osservato appunto che la diversità che è conservata in questi campi da questi agricoltori di sussistenza in Etiopia è sufficiente in molti casi a compensare il cambiamento climatico. In altri invece questo non è possibile, quindi abbiamo identificato delle regioni in cui ci attendiamo che comunità di agricoltori di sussistenza che utilizzano particolari varietà possano essere messi a rischio dagli effetti del cambiamento climatico. Questo è un piccolo contributo per un po' continuare a spingere ad aprire le porte a collaborazioni con università e istituzioni in Africa. Anche in Africa è possibile trovare ricercatori di grandissima eccellenza e infatti proprio in questa ricerca collaboriamo con l'Ethiopian Biodiversity Institute che è la banca del germoplasma in cui vengono conservati i semi più grandi dell'Africa. Grazie a tutti.